E' stato inaugurato stamani dalla società di trasporto pubblico TUA il nuovo deposito teatino di Brecciarola, un hub eco sostenibile che ospiterà fino a 46 mezzi. Il nuovo hub che l'azienda abruzzese del trasporto ha inaugurato in Viacigno a Chiediscalo garantisce una serie di vantaggi a partire dal piazzale più ampio che potrà ospitare fino a 46 mezzi, oltre al nuovo edificio per gli autisti e all'impianto di lavaggio. Il primo hub che ha una concessione anche innovativa per quanto riguarda il risparmio energetico perché sarà praticamente a costo zero, quindi l'energia sarà prodotta dai pannelli fotovoltaici che saranno installati sopra le pensiline all'interno delle quali ripareremo i nostri autobus. Un concetto innovativo di hub deposito per TUA, forse il primo che abbiamo costruito con questa formula, ma oltre a questo stiamo intervenendo su tutti gli altri depositi per migliorare gli uffici e le condizioni di lavoro dei nostri dipendenti. Uno sviluppo significativo degli spazi e in termini di sicurezza, aggiunto ancora il presidente De Angelis, che soddisfa tutte le necessità dei servizi di piazzale e del personale viaggiante. Sì, TUA sappiamo tutti che gestisce il 90% del trasporto regionale, quindi sviluppiamo 32 milioni di chilometri su gomma, anche la divisione ferroviaria ha avuto un impulso, una spinta molto forte in avanti con il raddoppio del parco mezzi, arriveremo nel 2025 ad avere 32 treni. C'è un sviluppo imponente di questa azienda e che richiede anche la massima attenzione perché tutto quello che ne consegue collaterarmente significa attrezzare l'azienda per un sviluppo importante che sarà fatto in brevissimo tempo. Quindi è questa la complessità che stiamo incontrando in questo momento, ma siamo tutti quanti convinti e coinvolti in questa avventura che porterà sicuramente TUA nel giro di due anni a essere un'azienda completamente diversa.